La nebbia fitta di ieri, evento piuttosto raro a Pescara, ha causato qualche disagio ai passeggeri dell'aeroporto d'Abruzzo. Dopo mezz'ora di attesa sul mare, nella speranza di atterrare con condizioni di visibilità migliore in totale sicurezza, i tre voli provenienti da Londra, Steinstead, da Bergamo e da Linate, sono stati dirottati su Roma Fiumicino, dove sono poi atterrati con un'ora e mezza di ritardo in piena notte. I passeggeri sono già arrivati a Pescara in Pullman, nessun ulteriore problema per i voli diretti questa mattina a Londra, qualche piccolo ritardo invece per le partenze su Bergamo e Linate. Intanto con il 2023 alle porte già tempo di progetti e di obiettivi, il primo l'allungamento della pista di 400 metri con annesso il cantiere per realizzarlo grazie a 5 milioni e 300 mila euro del bando del 28 ottobre scorso. Risorse che una società temporanea di imprese con capofila alla Romana Laghetto conglomerati si è aggiudicata. Dieci le imprese partecipanti, risultate idonee. Sopriamo l'impatto ambientale, l'emissione di consumi e di gas che si produce in pista, abbiamo una piena operatività sui voli attualmente disponibili e attualmente operati dalla nostra infrastruttura e in più possiamo affacciarci a un mondo transoceanico o intercontinentale perché riusciremo a far volare aerei più grandi di ampio e di medio e lungo raggio. Ma ci sono altre risorse, circa 15 milioni di euro su cui potrà contare la più grande infrastruttura ad Abruzzo. Si tratta di fondi comunitari utilizzabili grazie al fatto che le sinergie istituzionali hanno funzionato nei tempi utili. Già dal 2023 possiamo affacciarci anche al mondo del cargo e della logistica che negli ultimi anni è stato un po' dimenticato. 670.000 in totale i passeggeri se contiamo quelli dal 1 gennaio a novembre incluso e sul prossimo obiettivo però si attende il rinnovo del contratto con Ryanair con il fiato sospeso. Noi stiamo riprogrammando i prossimi 5 anni, quindi abbiamo degli obiettivi non solo per il 2023 ma per il prossimo quinquennio partendo dalle opere strategiche che questi 15 milioni di euro ci porteranno appunto nei prossimi anni. La speranza per l'infrastruttura destinata a diventare importante non solo per il turismo è quella di vedere coinvolti tutti gli stakeholder, confindustria, le camere di commercio e gli ma anche imprese importanti del territorio.